ben ritrovati amiche ed amici oggi ho il piacere di avere per questa chiacchierata un un artista un grande artista un cantautore che ha avuto una grande popolarità nel nel 1999 con la canzone che è diventata poi il tormentone se troppo bella però ha fatto tante altre cose tanti programmi in tv e ho il piacere di parlare con davide de marinis ciao davide ciao natale ciao come stai bene bene grazie ciao a tutti ciao ciao senti davide una una chiacchierata ecco molto amichevole e parto un po subito a descrivere un po il 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 tuo il tuo personaggio e tu però hai trovato il proprio modo ecco se possiamo dire così di affrontare la pandemia da coronavirus e raccontarla infatti lo scorso aprile hai inciso andrà tutto bene che è un inno a resistere nei mesi di lockdown e che ha visto la partecipazione di ben 70 artisti tra cui la iena andrea gresti e claudio lauretta che il famoso speaker di rds radio di j scusa il ricavato del progetto è andato all'ospedale di formia per l'acquisto di due importanti respiratori per i bambini proprio insieme ad agresti e lauretta adesso torni con mi sono rotto un grido liberatorio nei confronti del virus e delle limitazioni che ha comportato è proprio così sì sì hai detto tutto bene questa questo progetto è nato nel primo lockdown io ho scritto questa canzone che aveva uno scopo benefico abbiamo fatto una bella cosa tutti insieme e poi qualche mese fa un tre quattro mesi fa a dir la verità mi chiama il mio grande amico claudio lauretta e mi dice al telefono edde marinis e poi non è che è andata poi così tanto bene a parte il fatto di aver donato questi due respiratori e tutto il kit completo perché qui siamo ancora con le mascherine e siamo col distanziamento sociale e questo covid insomma ci sta facendo veramente tribulare e io ho detto in effetti tu devi scrivere il lato b della canzone devi scrivere mi sono rotto i coglioni e io ho iniziato a ridere vedi come sto ridendo adesso però dato che sono dei sapere natale che io sono diventato cantautore di clausura cioè vivo molto vedi chiuso in casa scrivo con la chitarra quasi tutti giù anzi tutti i giorni e quindi quando lui mi ha detto questa cosa mi ha subito stimolato e acceso delle lampadine perché è vero in effetti ci siamo tutti rotti di questa situazione non vediamo l'ora di uscire e di ritornare alla nostra vita normale e quindi mi sono messo chitarra fogli e ovviamente penna e ho scritto questa canzone di getto poi dopo l'ho mandata ad andrea e gli è piaciuta molto proviamo a chiamare claudio che la facciamo cantare stile renato pozzetto abbiamo mandato la canzone a claudio gli è piaciuta molto e nello stesso giorno avevamo fatto la canzone e avevamo costituito il trio delle meraviglie che siamo che è a gresti lauretta dei marini e niente siamo partiti e adesso stiamo facendo tante belle cose perché questa canzone è un po' un inno nazional popolare una valvola di sfogo perché ricordo che è giusto continuare a tenere le mascherine a igienizzarci le mani tenere le distanze di sicurezza però è anche abbiamo anche la possibilità e il giusto diritto di dire che ci siamo rotti i gioielli di famiglia di questa vita e non si vede non vediamo l'ora di tornare alla normalità e noi speriamo speriamo che tutto possa tornare senti davide cos'è cambiato da andrà tutto bene al singolo mi sono rotto dopo un anno di pandemia che ne so noi si sperava che andrà tutto bene fosse una uno slogan di quelli da così che fosse risolutivo cioè andrà tutto bene ragazzi dai stiamo a casa rimaniamo in quarantena e usciamo dopo per l'estate siamo con tutto di nuovo tutto a posto e si ricomincia la vita normale e invece devo dire che per ora è cambiato poco io spero da un certo punto di vista che veramente con la campagna vaccinale si possa chiudere questo periodo brutto della nostra della nostra vita perché vivere così e vivere in un certo senso a metà senti il brano è una fotografia perfetta di questo ultimo anno se hai proprio centrato l'obiettivo dalle mascherine alle restrizioni alle difficoltà che hanno dovuto affrontare anche le attività economiche è una giusta fotografia quella che ho fatto sì 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 guarda io ho fatto poi un elenco delle di tutte quelle attività che hanno a che fare col pubblico fatto proprio un elenco anzi mi spiace non aver potuto mettere anche altre attività però i ristoranti negozianti tutti i baristi tutti i tassisti e camerieri tutti gli attori e gli attrezzisti tutte le scuole e le palestre e i musicisti tutte attività che hanno a che fare col pubblico che stanno soffrendo tantissimo da un anno a questa parte e speriamo appunto come dicevo prima che speriamo di uscirne il prima possibile ci spiega un po come è nata questa amicizia e quindi la collaborazione con andrea gresti e claudio lauretta ma è nata intanto ci conoscevamo già però dopo la prima canzone che ti dicevo all'inizio di andrà tutto bene insomma si è creato un bel rapporto ovviamente ci sentivamo già ma è rimasta la voglia di mandarci messaggi telefonarci con più frequenza e poi dopo l'idea del mio amico andrea gresti la iena andrea gresti ha fatto ha fatto sì che che scrivessi questa canzone che poi la mettessimo a posto tutti insieme siamo andati subito in studio e quindi nasce dall'amicizia fondamentalmente questo progetto che quella che può unisce un po le persone anche se con 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 dei progetti di vita diversi però quando c'è una sana e vera amicizia tutto viene di comune accordo senti davide però la tua carriera è iniziata tantissimi anni prima nel 99 come dicevo prima arriva al successo un vero e proprio tormentone troppo bella che ricordiamo ancora oggi e credo che ci sia anche di mezzo la l'accademia di brera è vero sì nella stesura di questa di questa canzone ce spiegare ma allora quando mi chiedono come ho scritto e quando ho scritto troppo bella non posso fare fare meno di raccontare questo aneddoto cioè nel periodo in cui io studiavo in accademia che dipingevo facevo i quadri e mi piaceva tanto anche mi piace anche tanto questo tipo di espressione artistica io dipingo col caffè faccio delle mostre e ho fatto anche una pagina facebook dove ci sono tutti i miei quadri o una parte dei miei quadri della verità e niente in quegli anni quando ero più ragazzo insomma ero ragazzo senza più ero ragazzo e c'era questa giovane figura femminile che si aggirava nei corridoi dell'accademia e che io vedevo e guardavo con molta ammirazione e direi anche innamoramento e questa ragazza che se non ricordo male si chiamava laura mi ha ispirato questo brano io purtroppo non ho mai avuto il coraggio di avvicinarmi a lei e di palesare o comunque cercare un approccio con questa ragazza perché era un po timido perché pensavo che non gli interessassi però nel frattempo mi ha ispirato questo brano che poi subito ho scritto e dopo qualche tempo l'ho mandato alla mia prima casa discografica che era la EMI ed è subito piaciuta e da lì sono partito con tutto il mio progetto musicale. Poi l'hai incontrata dopo oppure è rimasta solamente una diciamo un'infatuazione? È rimasta nella canzone, io nella canzone l'ho fotografata nuda sulla bicicletta, l'ho portata fuori a cena, le ho dedicato e cantato una canzone le chiedevo di che segno fosse però in realtà di lei su poco e niente. Non l'ha mai saputo? Ah ecco appunto non l'ha mai saputo. Senti Davide hai fatto anche tv, ti abbiamo visto su Rai 1 a partecipare ad Ora o Ma Più e a tale quale show. Che esperienza è stata questa della dv per te? Bellissimo, io ci torno con piacere, in qualsiasi programma mi invitino perché è molto bello, mi piace l'ambiente televisivo, c'è la possibilità di comunicare, di farsi vedere, poi di promuovere, di proporre nuovi progetti, nuove canzoni nel mio caso. Quindi aver fatto Ora o Ma Più è stata un'esperienza meravigliosa insieme al mio coach Fausto Leali, fantastico, bravissimo, Fausto è il numero uno, una voce straordinaria e poi una persona che mi ha fatto sentire subito a mio agio, condotto magistralmente da Amadeus, bellissimo, invece tale quale è esperienza unica perché io non mi sono mai buttato nelle imitazioni, ma devo dire la verità che me la sono ricavata anche piuttosto bene e è come si dice un'esperienza da consigliare perché non capita tutti i giorni di poter trasformare il proprio viso, prendere le sembianze che ne so di Vasco Rossi, ovviamente studiare perché ho studiato tantissimo per imparare ad imitare le voci e poi magari anche la soddisfazione di vincere una puntata. Ecco, a proposito di questo ti volevo domandare qual è stato il personaggio di tale quale show che è più vicino alle tue corde o che ti è piaciuto maggiormente interpretare? Beh, Vasco Rossi sì perché ho vinto, quindi anche la soddisfazione di vincere, io non ho mai vinto tanto nella mia vita, sono uno che si impegna tanto, raccoglie il giusto o a volte anche meno di quanto pensassi, però vincere una puntata a Vasco Rossi. Poi quello che invece mi ha dato più soddisfazione sono stati diversi, Achille Lauro mi sono divertito tanto, poi mi sono divertito a fare J-AX. Bella zio, come stai? Tutto bene? Ho il Natale, ma siamo a Pasqua e sai, bello! Grande, grande! No, poi altre, adesso sono un po' arrugginito, però all'epoca quando avevo preso questa voce, perché poi non mi veniva J-AX, ho sofferto tanto a trovare il suo timbro vocale, poi dopo mi sono divertito, c'era anche il ballavo, sono lanciato, mi sembrava di essere nel telefilm, te lo ricordi? Saranno famosi? Mi sembrava di essere in quel telefilm lì. Diciamo che attorno poi ad un personaggio, poi ecco, tu devi studiare anche il modo di cantare, la sua gestualità, ecco, c'è anche un lavoro molto completo in queste tipologie di programmi, non è così Davide? Cioè è un lavoro enorme, enorme, noi si partiva, io l'unico giorno in cui riposavo un po' perché arrivavo stremato era il sabato, sabato, sabato sera, domenica, perché dal lunedì si cominciava in maniera estenuante, dalla mattina alle 9 io ero in Rai a far prove, a fare, avevamo quasi tutti i giorni un paio d'ore di canto, un paio d'ore di recitazione, un paio d'ore di ballo, là dove appunto dovevi ballare o fare una coreografia, anche semplice, però dovevi studiare, era tutto come è giusto che sia studiato, con il tuo maestro, poi ore e di trucco, perché noi avevamo quasi tre prove di, tre sessioni di prove trucco e poi la prova generale era il giovedì, era il giovedì e niente, il venerdì poi dopo si andava in diretta ed era veramente un'emozione enorme, enorme, ti assicuro che quando si entra in ascensore, ma proprio così il cuore va a mille. Sì, è fortissimo, è fortissimo. Davide, torniamo a Mi sono rotto, una fotografia dell'Italia al tempo del Covid, ma con una giusta dose di ironia, credi che l'ironia aiuti nelle situazioni di difficoltà. Un po' di sana ironia può sollevarci e renderci anche un momento un po' più difficile come questo, magari anche un pochino più sopportabile, poi non lo so, io la penso così, io insieme ad Andrea e a Claudio abbiamo pensato di fare questa canzone anche perché intanto ci è è venuta molto naturale e poi perché magari si pensava che per tutti gli anni in questo momento è un momento difficile, chi più chi meno sta soffrendo e magari anche provare a riderci sopra o a sorridere con il dovuto rispetto perché poi nella parte finale noi facciamo una citazione molto seria, dove ringraziamo tutti i dottori e gli infermieri perché sono i veri eroi di questo particolare periodo storico. Esattamente. Davide, da artista, quanto sei stanco di questo stop, di non poterti esibirti live? Ma guarda, l'esibizione live mi manca perché anche l'anno scorso io ho fatto due cosine ma così c'era una bella stagione che si prospettava visto che io arrivavo da Oroma e più, da tale quale, c'erano tante belle serate che erano lì pronte ad essere fatte in giro per l'Italia, nelle piazze e nei club dove è dura, è dura. E come dura per me, è dura per i miei musicisti, per gli attrezzisti, le persone che organizzano gli spettacoli, per chi lavora nel tutto il settore. Quindi io spero che la prossima estate si possa ripartire in qualche maniera e con più sicurezza, con più tranquillità. Ecco Davide, ultima domanda, quella che conclude un po' tutta questa nostra cacchierata. Cosa ti auguri da questo momento? Cosa si augura a Davide De Marinis? Allora, egoisticamente, ritornando alla domanda precedente, mi auguro di poter girare con il mio Mi sono rotto tour. Perché? Io faccio una proiezione egoistica, perché vuol dire che se io potrò girare la prossima estate, col mio Mi sono rotto tour, vorrà dire che l'epidemia, questa cosa che è il Covid, che stiamo vivendo, sarà stata superata o comunque siamo in una situazione tale che sarà consentito suonare in giro e quindi saremo tutti più sicuri. Quindi il mio augurio è appunto che si possa presto tornare ad una normalità di cui ce n'è tanto bisogno. Bene Davide, io ti ringrazio di questa intervista chiacchierata. Speriamo che il tuo augurio possa essere di buon auspicio e che dirti, tanti in bocca al lupo e a presto per futuri progetti lavorativi. Grazie a Davide e a prestissimo, grazie a Natale, grazie a tutti. Ciao, un abbraccio, ciao. Un bacione.